E ciao a tutti gli amici di Pistacchissimo.it! Oggi, grazie a Shara, rispondiamo alla domanda che si pone puntuale ogni anno. Si può fare un buon panettone al pistacchio 100% vegetale, senza usare quindi prodotti di origine animale, tra cui il latte, e quindi un prodotto per vegani e intolleranti al lattosio? Beh, scopriamolo! Eccolo qua! Panettone 100% vegetale, senza farcitura all'interno, perché abbiamo il vasetto di crema da spalmare. La copertura ovviamente non è in cioccolato bianco, bensì in cioccolato fondente, e troviamo un po' di granela di pistacchio sopra. Ma il vero cuore pulsante di questo prodotto è la crema oro di Shara, che è una crema senza base latte, infatti è solo pistacchio, olio e zucchero. La percentuale di pistacchio all'interno di questa crema è del 50%, una percentuale decisamente molto molto alta. Scatola di Shara sempre molto elegante, piccolissimo il cambiamento rispetto allo scorso anno, è diventata a scorrimento, anziché direttamente ad apertura. Sì, bella, ok, via! È giunto il momento di passare all'assaggio. Ed eccola qua, guardate l'impasto! Senza burro, senza latte, direi che è decisamente notevole. Il profumo è abbastanza diverso da quello di un panettone tradizionale, però è molto buono. Andiamo ad aprire la crema. Mamma mia, il profumo di pistacchio tostato di questa crema è pazzesco! La crema, infatti, come vedete, è molto marroncina, anzi direi proprio dorata. Il termine crema oro è quanto mai azzeccato. Andiamo a spalmare un po' di crema, come sempre una quantità ragionevole per poter farcire tutto il panettone. Andiamo all'assaggio e scopriamo se è buono come l'anno scorso. L'impasto è morbidissimo. La crema oro è sempre fenomenale e l'impasto è morbidissimo. E poi la crema oro al 50% è veramente fantastica. Io la preferisco rispetto alla loro crema al 30%, quella classica, che è un'ottima crema al pistacchio, però qui il pistacchio è ancora più intenso. Molto buono. La copertura è davvero molto croccante, più spessa rispetto a quella in cioccolato bianco del loro panettone classico, quindi è veramente sfiziosa. Certo, non c'è molto pistacchio. E quindi, passiamo alle conclusioni. Chi mi segue da un po' sa che sono particolarmente affezionato a questo prodotto perché l'ho visto nascere dal 2017 e l'ho seguito nella sua evoluzione anno dopo anno. Soprattutto mi piace ricordare come nel 2017 avessi un po' criticato l'impasto, ma in fondo era il primo prototipo, e poi nel 2018 fece un salto di qualità impressionante, trasformandosi in quello che è oggi, che è veramente, veramente buono. La crema oro infatti rimane una garanzia di pistacchiosità, e quindi mi piace veramente tanto. E questa crema va ad unirsi ad un impasto che secondo me è un compromesso più che accettabile se si cerca un panettone vegetale o senza latte. Ripeto, non ha esattamente il sapore di un panettone, però ribadisco essere un ottimo compromesso e questo lo dimostra il fatto che è un prodotto decisamente godibile anche da chi, come me, non ha questa necessità. Perciò faccio i miei complimenti a Shara, vi lascio ovviamente sia in descrizione che in sovrimpressione il loro sito e a costo di essere ripetitivo ribadisco, se vi serve questo tipo di prodotto ve lo consiglio. Un saluto a tutti e al prossimo video! Grazie a tutti!